Un simpaticissimo tapiro d'oro arriva dritto dritto nelle mani di Simone Inzaghi. Per quale motivo vi starete chiedendo? Bene, dopo la beffa, dopo la clamorosissima beffa a Nyon, se non ero in Francia, durante i sortici di Champions League. L'Inter infatti, nei razzurri per eccellenza, all'inizio erano stati abbinati all'Ajax, ma poi però, caso strano diciamo così, dopo l'annullamento e la ripetizione dell'estrazione, quindi del sortecio, si sono ritrovati contro i fortissimi del Liverpool. Una svista forse, secondo qualcuno, secondo qualcun altro no. Sta di fatto che però il buon Vario Staffelli, l'attapiratore per eccellenza, va a premiare proprio Inzaghi attraverso questo simpatico, nonché piacevole, trofeo. La clamorosa beffa, si tratta di beffa clamorosa, ripeto, a Nyon in Francia, se non erro, in questi sortici di Champions League, da parte proprio dell'Inter, che era, ripeto, abbinata all'Ajax, ma poi si sono ritrovati con, per l'appunto, il Liverpool. Bene, grazie a tutti. La prende bene Simone Inzaghi, in macchina, accoglie bene, in maniera abbastanza festosa, con un bel sorriso sui denti, il buon Valerio Nestaferli. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, un saluto negario, e al prossimo io, grazie a tutti.